La vittoria va sempre bene, io ringrazio i ragazzi perché io sto sempre vicino, fino a giugno mandengo l'impegno io e il co-presidente della mia società. A giugno ribadisco che lascerò la squadra, se c'è qualcuno che segnerà la squadra andiamo avanti o vanno avanti, altrimenti c'è l'assessore dello sport che oggi ha fatto la bella intervista, c'è il comune, c'è il sindaco, io sono stanco. Le vittorie fanno bene, sarò vicino, manderò le promesse fino a giugno, dopo da giugno si trova un'altra dirigenza, una società. Il mister sicuramente non ci risponderà, però questa vittoria alla Vastese è adesso al quinto posto, è sempre un ottimo piazzamento, si è nella griglia playoff, si può sperare in qualcosa di positivo anche per ricucire queste cose che sono successe in questi giorni con il comune, con l'amministrazione? Allora la squadra è una cosa, il mister è una cosa e il comune è un'altra, siamo due cose separate, perché io lo vedo insieme, per loro lo vedono separato. Il mister è come noi tutti andiamo avanti ogni domenica per domenica, perché ogni domenica è una battaglia, perciò domenica ci aspetterà il Chieti, andiamo là a giocarci questa partita, però ripeto, i risultati fanno morale, ma io fino a giugno sarò qua, dopo giugno io come presidente, come vi ho detto la settimana fa e ribadisco adesso, lasceremo la Vastese, però quando si vince va sempre bene, il morale è sempre alto. Possiamo dire dove la Vastese giocherà tra 15 giorni la sua partita casalinga? Come no, abbiamo deciso di giocare a Val di Sanglo, ci stiamo già lavorando col Tolentino, questa è un'altra dimostrazione che la Vastese andrà a giocare fuori casa, cioè questo è uno smacco morale sia come la dirigenza sia come la città, però questi vogliono e questo bisogna ottenere, perciò entro giugno noi ribadisco, perché chi non sta attendo, che noi non segneremo la Vastese calcio in serie D, c'è l'assessore che ha detto che oggi farà di tutto, perciò farà tutto lui col comune per trovare fiduzione, iscrizione, giocatori, ci vuole almeno le prime 120 mila euro per camminare, tutto qua, visto che noi non cacciamo una lira, come ha detto lui e ha ribadito, allora o che lo cacciano loro perché cominciamo a capire come funziona la musica.